Ciao e benvenuto nel mio canale youtube sugli animali. In questo video parleremo di insetti benefici per il giardino, alleati naturali per il controllo delle piante. Quando si tratta di curare e mantenere in buono stato il proprio giardino o un piccolo orto, a volte non si tengono in considerazione una serie di fattori che invece possono risultare molto vantaggiosi. Tra questi ci sono alcuni piccoli insetti utili per il giardino. Alcuni svolgono un ruolo fondamentale sia come impollinatori che come protettori contro i parassiti. Se volete sapere quali insetti sono vostri alleati nella cura del giardino, continuate a guardare questo video. Insetti utili per il giardino. Che funzione svolgono? Prima di tutto, come già avrete potuto immaginare, non tutti gli insetti sono nocivi. Infatti in natura tutti i piccoli insetti hanno un ruolo biologico. Ecco perché è importante identificare quali specie di insetti possono dare benefici allo sviluppo e al buon mantenimento del vostro spazio verde. Tra le funzioni più importanti, i piccoli insetti contribuiscono al processo di impollinazione e fungono da barriera contro i parassiti. Inoltre, se il vostro giardino include alberi da frutto o piante commestibili, la presenza di alcuni particolari insetti può favorire in certa misura alla crescita e alla produzione. Pertanto è importante conoscere il ruolo benefico di questi insetti utili per il giardino e favorire il più possibile la loro presenza nel vostro orto. Un accorgimento è quello di avere piante aromatiche e fiori colorati che attirano l'attenzione degli insetti e li invitano ad avvicinarsi. Quindi, se volete conoscere questi preziosi alleati del vostro giardino, continuate a seguirci. Eccone alcuni tra i più noti. Le api, piccoli insetti utili per il giardino. Le api, con le loro ali instancabili e il lavoro incessante, sono tra gli insetti più preziosi per l'ecosistema e l'agricoltura. Svolgono un ruolo fondamentale nell'impollinazione delle piante, contribuendo alla produzione di una vasta gamma di alimenti, tra cui frutta, verdura e noci. Senza di loro, molti di questi alimenti sarebbero difficili, se non impossibili, da coltivare. Tuttavia, le api stanno affrontando una grave crisi a causa di fattori come la perdita di habitat, l'uso eccessivo di pesticidi e il cambiamento climatico. Questi fattori stanno contribuendo alla loro diminuzione in tutto il mondo, con gravi conseguenze per la produzione alimentare e l'equilibrio ecologico. Nel vostro giardino, le api svolgono un ruolo essenziale nell'impollinare i fiori e garantire la produzione di frutta e verdura. Creare un ambiente favorevole alle api, fornendo fiori ricchi di nettare e acqua, può contribuire a sostenere queste importanti creature. Inoltre, evitare l'uso eccessivo di pesticidi e promuovere pratiche agricole sostenibili può aiutare a proteggere le api e preservare il delicato equilibrio della natura. Quindi, le api non sono solo piccoli insetti utili per il giardino, ma guardiani essenziali della nostra catena alimentare e dell'ecosistema globale. Farfalle. Le farfalle, con la loro straordinaria bellezza e grazie a involo, svolgono un ruolo fondamentale nell'ecosistema del giardino. Oltre all'aspetto estetico, sono anche preziosi impollinatori. Quando visitano fiori come gelsomini e calendule alla ricerca di nettare, contribuiscono all'impollinazione delle piante, facilitando la produzione di frutta e semi. Questo processo è essenziale per la diversità delle piante e la produzione di alimenti. Inoltre, alcune specie di farfalle depongono le uova sulle piante del vostro giardino. Le larve che ne emergono possono servire da nutrimento per altri insetti benefici, come coccinelle e mantidi religiose, contribuendo a mantenere l'equilibrio delle popolazioni di insetti nel vostro spazio verde. Promuovere la presenza di farfalle nel vostro giardino attraverso la scelta di piante ospitali e la creazione di habitat accoglienti può non solo aumentare la bellezza del vostro ambiente, ma anche contribuire a una migliore salute dell'ecosistema locale. Le farfalle sono una testimonianza vivente della bellezza della natura e del suo intricato ciclo di vita. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. Le coccinelle tra gli insetti utili per il giardino Questi simpatici insetti sono molto riconoscibili. Appartengono all'ordine coleoptera, proprio come tutti gli altri coleopteri. I loro corpi arrotondati esibiscono dei colori vivaci come il rosso, l'arancione e il giallo, con dei punti neri sempre in evidenza. Hanno pochi predatori e svolgono uno dei ruoli più importanti nel controllo dei vari parassiti. Gran parte di questo merito è dovuto al loro grande appetito, in quanto sono capaci di divorare fino a centinaia di esemplari di acari, afidi, cocciniglie, mosche bianche. Nel corso della storia sono stati utilizzati come metodo principale per il controllo dei parassiti, quindi averli nel vostro giardino è senza dubbio altamente raccomandato. Vespe Le vespe, spesso percepite come insetti indesiderati a causa del loro pungiglione e della loro reputazione di essere fastidiose, svolgono un ruolo sorprendentemente prezioso nell'ecosistema del vostro giardino. Nonostante le loro abilità di difesa, alcune specie di vespe si rivelano alleate indispensabili nella lotta ai parassiti e nella promozione della salute delle piante. Questi insetti carnivori si nutrono principalmente di altri insetti, come bruchi e afidi, che sono noti per danneggiare le piante. Le vespe adulte catturano spesso gli afidi per nutrirsi, mentre le larve delle vespe si sviluppano all'interno dei bruchi ospiti, contribuendo così al controllo naturale dei parassiti. Questo comportamento le rende dei predatori altamente efficienti che contribuiscono a mantenere l'equilibrio nell'ecosistema del giardino. Promuovere la presenza di vespe nel vostro giardino può essere fatto fornendo loro habitat adatto e piante che attirano gli insetti di cui si nutrono. Evitare l'uso eccessivo di pesticidi può anche favorire il loro benessere e consentire loro di svolgere il loro ruolo ecologico senza interferenze. In conclusione, nonostante la loro reputazione negativa, le vespe svolgono un ruolo vitale nella promozione della biodiversità e nel controllo dei parassiti nel vostro giardino. La loro presenza contribuisce a mantenere l'ecosistema in equilibrio e a promuovere una salute migliore per le piante. Quindi, mentre possono sembrare ospiti inquietanti, le vespe sono alleate preziose per un giardino prospero. Crisopidi. I crisopodi appartengono all'ordine dei neurotteri e abitano normalmente le aree agricole o le zone con vegetazione abbondante. Il loro aspetto è molto caratteristico, hanno un corpo verde con ali trasparenti e occhi dorati o gialli. Anche se forse non ne avete mai sentito parlare, la realtà è che sono molto efficaci contro la temuta mosca bianca, specialmente la crisoperla carnea, comunemente nota come crisopa. Sono anche in grado di combattere bruchi, cociniglie e altri insetti nocivi. Oltre a questi, ci sono molti altri piccoli insetti utili per il giardino che possono essere di grande aiuto. Pertanto, se volete che il vostro giardino appaia in salute, è importante conoscere e informarsi su questo tipo di insetti. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi? Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.